Tirrenia e Meridiana Tirrenia e Meridiana, la prossima estate nave più aereo. Un accordo tra Tirrenia e Meridiana consente di viaggiare dai per la Sardegna con la combinazione nave più volo. Si rivolge a famiglie e gruppi di amici che organizzano un soggiorno nell'isola e avendo un'auto a seguito, prenotano il viaggio di andata e ritorno in nave, ma durante il soggiorno devono rientrare una o più volte nella penisola. Il nuovo package Fly e Ferri ha un costo pari a 600 euro, è valido nel periodo che va dal 22 aprile al 25 ottobre 2014. Il pacchetto include, un carnet Meridiana di linea singola, composto da quattro coupon e utilizzabile da più beneficiari su voli dai per la Sardegna. Un biglietto Tirrenia cinde il valore di 100 euro che garantisce uno sconto del 30% delle tariffe per le partenze ad aprile a ottobre ed uno sconto del 20% delle tariffe per le partenze ad agosto. Le tariffe sono applicabili sulle tratte andata e ritorno coperte da Tirrenia, Cività Vecchia Obbia, Genova Porto Torres Obbia, Napoli Cagliari. Per informazioni andare sul sito www.tirrenia.it www.tirrenia.it